Salve a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, non parliamo di fumetti, ma questo è un video che volevo fare veramente da tanto tempo. Infatti oggi voglio consigliarvi tre canali di YouTube che a me piacciono parecchio e che vorrei farvi conoscere in caso già non li conosciate. Questo video volevo farlo da veramente tanto tempo, solamente che poi mi facevo sempre mille problemi. Del tipo, se consigli quello è più grosso quindi gli lecchi il culo, consigli quello solamente perché è amico tuo e quindi vi leccate il culo a vicenda. Oppure se consigli un canale a qualcun altro roderà il culo perché non hai consigliato lui. Insomma, è praticamente tutta una questione di culo. Ma visto che se pensi troppo alle cose alla fine non le fai mai, finalmente mi sono deciso e consiglio questi tre canali. Per cui questo video prendetelo per quello che è. Tre consigli, come potrei fare per un fumetto, questa volta lo faccio per tre canali o tre YouTuber, chiamateli come volete. Ovviamente mi sembra scontato, ma ve lo dico rimarremo sempre nell'ambito dei fumetti, dei manga, anime. Il primo canale che voglio consigliarvi sicuramente lo conoscerete ed è Masterovecci95. Alessio è stato uno dei primi che ho conosciuto quando ho incominciato a fare video. Uno dei primi della community, potremmo dire, con la quale ho incominciato a parlare anche fuori YouTube. E col passare del tempo quella iniziale stima reciproca è diventata una vera e propria amicizia. Ma non voglio assolutamente consigliarvelo solamente perché amico mio ci mancherebbe. Ma perché il suo canale è veramente molto interessante e a me piacciono tantissimo i suoi video. È un canale che può interessare veramente a tutti gli appassionati di fumetto, in quanto lui, a differenza mia, che sono molto più legato in particolare al manga, compra e recensisce un po' di tutto. È sempre diretto, dice le cose come le pensa, anche se a volte le sue idee possono sembrare un po' impopolari. I suoi video sono sempre molto completi e risultano molto interessanti. Spesso anche io li guardo per farmi un'idea sulle nuove serie in uscita. Visto che lo stronzo caga praticamente soldi e qualsiasi numero uno lo acquista, anche se questo può sembrare una stronzata che proprio la senti da chilometri. Facendovi un giro sul suo canale troverete un sacco di recensioni, un sacco di videoacquisti e moltissimi appunto focus on riguardo più che altro numeri uno. È un canale che seguo davvero con piacere perché fa parte un po' di quella YouTube che non esiste più, di quando avevamo incominciato. Dove si facevano più che altro videoacquisti e recensioni. Col passare del tempo quei video sono diventati sempre più difficili da portare su YouTube, ce ne siamo resi conto tutti perché YouTube non premia i video costruiti e video impegnativi. Basti guardare il mio ultimo video su Cinecomics che se fosse uscito, boh, tipo 5-6 anni fa e l'avesse fatto Yotoi avrebbe fatto più di un milione di visualizzazioni e il web sarebbe esploso. Invece l'ho fatto io nel 2017 e non siamo arrivati neanche a 200 views con un numero di dislike esacerato. Vi girò del culo, eh Cinecomics fag. Ma nonostante tutto lui continua sempre a fare video che gli piacciono in culo alle visualizzazioni ed è giusto che YouTube sia così. Ma comunque nonostante questa impostazione un po' classica, comunque il canale anche adesso nel 2017 rimane molto valido. Perché comunque ci sono un sacco di contenuti e un sacco di qualità. E potremmo anche dire che oramai lui è uno dei canali storici che parlano di manga su YouTube. Infatti mi ricordo che incominciammo circa insieme e eravamo un po' questa seconda ondata dopo quelli più grandi della quale qualcuno ancora è rimasto e sono diventati famosi o hanno lasciato. E anche tanti ragazzi che incominciavano ad aprire canali insieme a noi poi hanno abbandonato. Invece lui come vi ho detto continua a tenere ancora botta con dei video veramente molto interessanti. Stando su YouTube da così tanto tempo bene o male un po' di cosette le capisci quindi anche per quello è molto interessante da seguire. Questo è un canale che sicuramente se mi seguite lo conoscerete. Ma in caso contrario sono contentissimo di consigliarvelo andate lì sotto e scrivetegli che vi mando io. Magari scrivendogli non so ma quando cazzo la leggi tutta sta roba. Il secondo canale invece che voglio consigliarvi è un po' più recente come apertura e ha un po' meno iscritti. E quindi qui le probabilità che non lo conosciate sono di più e ci tengo a farvelo conoscere io. Sto parlando del canale di The Pinuscher. Il suo canale è davvero molto interessante a mio parere e se vi piacciono i fumetti dovreste tenerlo d'occhio. Pierre è un ragazzo con una voglia di fare travolgente. Ci mette una passione, un entusiasmo in quello che fa che fa diventare interessanti anche dei fumetti della quale pensavi non te ne interessasse niente. Lui è uno di quelli che veramente fa i video con passione ma non come si dice spesso qua su YouTube che tutti quanti fanno i video con passione e poi monetizzano sulle spalle dei decenni che li seguono. Lui si è appassionato a un determinato tipo di fumetto che può essere quello italiano più underground oppure al fumetto Jap Style ossia di quei lavori di fumettisti italiani che disegnano con uno stile molto più simile a quello del manga che spesso ne ricalcano anche gli stilemi narrativi piuttosto che grafici ecco. Bene proprio riguardo a quello secondo me porta su YouTube una cosa che non si era mai visto un progetto ambiziosissimo ossia quello di portare delle live con degli autori di fumetto dando così anche una visibilità al loro lavoro. E in questo modo anch'io che diciamo bazzico poco nell'underground del fumetto sono potuto venire a scoprire delle storie degli autori veramente molto interessanti nonché la corrente proprio del fumetto Jap Style che io magari potevo prima un po' snobbare che invece mi sono reso conto avere una vera e propria dignità piuttosto che essere semplicemente come tanti detrattori dicono delle imitazioni posticce dei fumetti giapponesi. E quindi un canale YouTube che parla di fumetti che ti fa scoprire delle cose nuove e ti fa ragionare su quella che alla fine la nostra passione secondo me andrebbe seguito a prescindere. E è veramente un peccato che questi progetti che lui porta avanti con tanta passione ed edizione anche una certa professionalità non vengano più di tanto visti. Quindi se io grazie a questa mia sponsorizzazione posso portargli qualche persona in più che comincerà a seguirlo ne sono veramente molto contento. Come sempre andate sotto il suo ultimo video e scrivetegli basta quei video acquisti di un'ora per fargli capire che vi mando io. L'ultimo canale che voglio consigliarvi ci tengo a farlo perché io veramente lo adoro e nonostante abbia un numero di iscritti superiore al mio magari con il fatto che lui parla di anime qualcuno di voi che guarda più che altro i video su YouTube di persone che parlano di fumetti e manga non lo conosce e il che è un male. Per cui ci metto una pezza io e infatti l'ultimo canale che voglio consigliarvi è l'angolo di Giaju. Già il suo canale si chiama l'angolo di Giaju e quindi come potrete capire c'è un qualcosa che ricorda un altro YouTuber che molto probabilmente è il mio preferito di sempre. E infatti proprio come Farenz che quando esce un suo video lo clicchi immediatamente con Giaju è la stessa cosa. Per due motivi il primo è che è un evento rarissimo che ne faccia uno il secondo è che sono veramente bellissimi secondo me. Secondo me è quello che nel suo nel nostro ambito riesce a coniugare meglio la qualità con i contenuti. Ogni suo video è impeccabile a livello di scrittura e a livello di montaggio e tra l'altro è impressionante come riesca a migliorare sempre. Uno dei suoi ultimi video se non proprio l'ultimo adesso non ricordo dove parla del film The Silent Voice probabilmente merita la visione quanto il film. È meraviglioso e anche se non ve ne fregava niente di vedere il film andate tranquilli che sicuramente quel video vi farà venire la voglia di guardare il trailer minimo. È una rubrica dove parla di anime in due minuti che davvero due minuti che cosa sono 120 secondi niente eppure lui riesce ad esprimere molto di più che in video recensioni che ho visto su YouTube che durano decine di minuti. E come vi ho detto anche a livello visivo secondo me in quello che fa è uno dei migliori e saprete che la qualità del video intesa proprio come immagine è una cosa alla quale tengo tanto anch'io nonostante adesso sto registrando con un Gorillapod dentro un cassetto. Cazzo guardate che setup professionale. E che cosa posso fare di più se non consigliarvi questo canale? Andate guardate i suoi video scoppiateveli e adorateli come faccio io. Per fargli capire che vi mando io commentategli scrivendovi fai più video perché la community ne ha bisogno. Bene io quello che dovevo dirvi ve l'ho detto spero che prendiate come vi ho detto all'inizio questo video per quello che è ossia tre consigli spassionati su tre canali che io seguo e che spero possano essere per voi delle scoperte e magari anche delle belle scoperte. Sarei anche molto contento visto che si parla sempre di community community se magari queste tre persone che ho citato volessero fare anche loro un video magari non consigliando tre canali o magari non un video ma che cazzo ne so post vedete voi dove si consigliano altri canali perché magari a me quelli che piacciono sono questi ma ce n'è qualcuno piccolo che ha iniziato da poco che non conosco neanche io e che merita. Quindi proprio guardate non prendete questo video come una leccata di culo o un qualcosa perché sapete non me ne frega niente proprio per cercare di consigliarsi dei canali per scoprirne di nuovi e magari dare una mano a quelli più piccoli a crescere. Per cui se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace bla 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 qua sotto ci sono tutti quanti i miei social e noi ragazzi ci vediamo prossimamente ciao a tutti.